che sta formando, un po' arretrato Ringo, numero più alto, ora parte un po' lanciato e lotta al via con, dall'esterno, run to win rest molto veloce con sulla prima curva c'è una stretta con e fa le spese Rudolf che finisce di galoppo dalla seconda fila è partita forte il Razel Griff, numero 14 davanti a Rocky CK 29, i primi 400, il Razel Griff segue il battistrada run to winner FM a largo Ringo, terza posizione per Rocky, ancora Rita Red 600 in 44 e mezzo, il Ringo si migliora a largo, per linee esterne ha mosso anche il 3 di Raymond e Raymond va ad avvicinare i primi con run to winner che si mantiene sempre bene avanti, un minuto, 16 il paletto segue a qualche lunghezza Razel Griff che ha Ringo all'esterno poi Raymond in anticipo su River Galla che si muove bene dal gruppo il chilometro del battistrada in 15 e 9 15 e 1 il paletto run to winner FM sempre bene avanti poi Ringo avvicina a run to winner sulla curva finale ma si getta di galoppo 1'39, i tre quarti, l'errore di Ringo che lascia in seconda posizione Raymond poi River Galla mentre run to winner è ancora bene in vantaggio all'ingresso in dirittura run to winner FM con un paio abbondanti su Raymond e River Galla run to winner gestisce il vantaggio finisce bene River Galla, River Galla che si ingamba, riguadagna terreno a run to winner River Galla che arriva su run to winner nel finale run to winner FM poi River Galla al terzo il numero 5 di Rita Red 6-13-5 l'affermazione in 2-2 scarsi di Romeo Gallucci run to winner FM che fa percorso liscio e si salva ancora bene nel finale dall'affondo di un buon River Galla al terzo Rita Red run to winner FM 1-16-4 per il credit winner del baronetto Massimo Finetti al training Romeo Gallucci alla guida perché grazie a tutti